Ehi, nothing you can say, because he's gonna train what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take one, man H, siamo già dentro, ah no Allora, torno ad una missione, signora, riprendere la vita quotidiana, ah, per questo che intendeva la vita quotidiana con le amicizie Ok, ciao Eren, come stai? Sì Sta parlando o muove solo le labbra? Vabbè, a questo legge metteranno molto a padrone, ma... Ah, ok Non dice solo un pezzo di frase, poi inizia a parlare da solo Ogni secondo me ammazzare più giocanti, allora mi allenarò così ogni giorno A proposito, Shadis Ti stava cercando, forse puoi ancora trovare il capo del strumento, ok Andiamo? In realtà le devo poi aprire per usare le scorciatoie verso le persone, lo vediamo Cioè, scusa, scorciatoie in che senso? Ah, posso andare così direttamente? Cioè, non so neanche dove devo andare Di là Comandante Scusi Istruttore Peccato che non se li mangiano i maiali Che bastardo Eh, a me non dici niente Sì, forse era meglio che andavi nel maiale Comunque Sicuri? Sicuri, sicuri Secondo te? Impara dai migliori, vai da mia casa O da me Ha 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 Certo Io vado da Annie a combattere corpo a corpo, però La prima cosa che voglio fare Dimmi Alcuni di loro hanno un grande talento Eh, lo so, grazie a cazzo Grazie L'avevo già fatto Esiste un paradigma chiamato Amicizia Ah, l'abbiamo già visto prima Che rappresenta la forza tra le relazioni Cioè, le relazioni Stringeremo in modi diversi Come ad esempio Dire la cosa giusta Durante la conversazione Ok Quindi anche quello che dico Può influenzare L'amicizia Ok Sì E tu? Tu? Tu non li fai brutta merda Ciao Eren Sì? Allora, dobbiamo fare un allenamento attorno Tu fide? Non arrenderti bello Immagino l'ultima Gli scendeva Perché lui Vuole ammazzare tutti Punto e basta Basta conoscerli Effettivamente noi li conosciamo abbastanza Certo Ah Dobbiamo imparare in fretta Quindi Posso migliorare l'amicizia Con abbastanza tutti Ovviamente Non con chi morirà Vero ragazzi? Vero ragazzi? Vero? Scusate Sembrano tutti per il che stanche Stai bene? Ho quasi avuto un incidente Nell'allenamento di oggi pomeriggio E Grazie per l'interessamento Però Grazie Grazie Cristo Grazie Sempre molto gentile Lei è sempre molto preoccupata per tutti Tranne di se stesso Ma non mi sentirai Un lamento da me No T'hanno dato da una testata Oggi proprio Pam Una pelata Dopotutto se voglio Tranne Devo migliorare i miei voti Ce la farai? No Non ce la farai Cioè Non mi spiace Lo sapevo che Ti piaceva Ti conosco abbastanza bene Però io non Avrei mai detto quello Però per aumentare l'amicizia Un pochino Non diciamo le cose giuste Dobbiamo Ancora Sì Dobbiamo ancora allenarci stanotte Non mi ricordavo Esistesse anche un allenamento Ovviamente cosa stavi facendo te Ma te Ma che Dove le tiri fuori Eh ma no Aspetta eh Adesso gli parlo Scusate ma Olè Un'altra Non c'è della carta o qualcosa Qui intorno La dispensa Degli ufficiali Magari La terra De gigante La cucina Io direi No Non è aumentata No Peccato Ehi Tu laggiù Sì Chi è C'è ancora qualcuno Con cui volevo parlare Oh Ma ciao Ma te che cazzo fai qui Scusa Sì Ah il mio diario Ah il mio diario No Assoluto Sì Perciò che cazzo fai qui Lei chi è Grazie mille Prima Magari Ringrazialo Era un capitano Sì Sì Certo che lo conosco Anche io Mi stai discriminando Dovrei venire da te Sì signore Grazie signore Capitano Signore Dai Pensavo che ti sono Lusi in gas Guarda Sì signore Sì signore Sì signore Sì signore Ah grazie Quando sei in modalità Di vita Prova a premere Quadrato Sul diario Contiene informazioni Riguardo Le missioni E molto altro Interessante Proviamo Due anni fa Il gigante Crozzato Mi ha strappato Via la casa E la famiglia Adesso faccio parte Della centoquattresimo Insieme ai miei Comilitoni Sopporto una Routine quotidiana Composta da Brutali esercitazioni Tutto ciò In nome della Vendetta Forse questa voce Non andava bene Anche se Della prima parte Sì Finché non otterrò Il diploma Non entrerò Nel corpo di ricerca E non ucciderò Quella buonigno Corazzato Intendo continuare A tenere Questo diario Grazie cazzo Te l'hanno detto Te l'hanno detto Loro Va buona C'era qualcun altro Con cui devo fare Amicizia Ah qua posso vedere Con chi parlare E così ci vado Direttamente Ma manca Abbastanza veloce Era quello che Intendeva Sì Armi Sì Tu sei Abbastanza Scasso Ma mi ha stupito Quando fosse ben Congegnato Ma devo aver messo in pratica Le cose Che abbiamo studiato Ah giusto Non era Rainer Che Ti ha aiutato Sì Dovresti ringraziarlo Ok Voglio vedere Una promozione Sì Però vuoi andare Un po' più lenta Per fare questo lavoro Cosa No Eh però Loro stanno parlando Effettivamente Forse perché È un filmato È vero Anche voi qui Che succede Sarà parlare L'elemento notturno È vero Che lui è scarsissimo Lui proprio Non lo sa fare Negli spogliatoi Eh Voi due Da dove ero venite Quindi sì È stato distrutto Sì Sì Riconosci la tua vita Ma la tua città Tecnicamente Non resiste più Io ho girato Di uccidere tutte Sì Ah non devo scegliere Ah non devo scegliere Hai ragione Molta ragione E immagino E immagino che E immagino che quel puntino Rosso Faccia partire Effettivamente La missione finale È già qua Non sembravi tanto Eren Da quella distanza Comunque Avanzamento La battaglia successiva Ok Quindi facendo questa Interrompo La quotidianità Non posso aumentare La tua amicizia Mi casa Fatemi aumentare L'amicizia Con mi casa Non penso Ci sia nessun altro Oh no C'è qualcuno Ah eh Era Bertold L'ho lasciato là E probabilmente Poteva aumentare L'amicizia Con Bertold Non so per quale motivo Ma posso aumentarla Durante l'anelmento Di oggi Sono contento Io non ho ancora capito Cosa mi fosse successo Dobbiamo ringraziare Pensavo che Adulare Reina Ti piacesse Di più Ok È ora di partire In una nuova mission Certo che me lo ricordavo Me l'avete ripetuto Diecimila volte Di questo allenamento Notturno Quindi Direi che possiamo andare Vado a fare un pisolino Forza Dobbiamo allenarci Il nostro diario Ah no Un caricamento Pensavo che iniziassi A scrivere qualcosa E' verso le altre Non è incentrata Sulle Ma Sulle vostre capacità Di cooperazione Ok Quindi per ora Dobbiamo muoverci Sulle tattiche Io sono abbastanza bravo In tattica Sì Sì Certo Certo Ma Daz Precisamente Tu che fai qua Condividi Apreco per Zulima Ma stiamo lavorando Sì Stiamo finendo il fare Riformare Il municione Voglio fare una pausa Voglio andare a ca C'è molto da fare Dovete chiamarmi tutti capitano Allora Ci penso io dai Andiamo Ok Ok E dove lo facciamo Riformimento Allora Puoi costruire basi Sul campo da battaglia Per supportare Lo sforzo bellico E rifornirti Gas, lame E così via Ah Interessante Queste cose Ci sono tattiche vere C'è qualcosa Davvero da fare Alcune base Sono anche In grado Di attaccare Titani Con dei cannoni Uuu Interessante Quando ti trovi Vicino a un sito Di costruzione Di una base Premi cerchio Per aprire Un menu Di struttura Posso scegliere Diversi tipi Di struttura Ok Prima di Ok Quindi devo avere Un segnale Per poterlo fare Non ce li ho sempre Ok Quindi non ci sono più I rifornitori Non ci sono più I rifornitori I soliti C'è Questa base Ok Ok Tanto ricarichiamo Tutto Beh non di certo Qui di fianco Costruiamo da questo lato Siamo vicini Ma comunque Abbastanza lontani Da tutto Teniamo questo lato Di qui Invece Non dobbiamo farlo Per forza Dall'altra parte Anche perché Sennò Siamo nella merda Perfetto E ora cosa dobbiamo fare Eh Non lo so I membri Possiamo svariate Azioni Combinate Per aiutarti In battaglia Quando il conno È illuminata Oh illuminata Ok L1 Scusate Prima L1 Ok Quindi posso dare Gli ordini Come davo Con Connie Sto già usando Troppo Che là Scusate Orca vacca in quanti sono Ok andiamo 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 a rubarli Connie vai tu Andiamo 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 E Andiamo 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 Dov'essere più veloce a fare queste cose Mi ero scordato delle Quello è mio Avrei dovuto lasciare lavoro Hai trovato i compagni di mi casa tristi Per quale motivo? Bravo Connie No cazzo me l'hanno fatto loro Rimare uno Eren è mio Tutti Massacratelo Guarda che siamo tutti qui Salve Se non sono io v'ho andato a cagare Kate What? Come è possibile? Avete barato? Dove? Ero io il migliore? C'era una classifica da qualche parte Non l'ho neanche guardata Non è possibile Per forza Perfetto Grazie per i complimenti Noi abbiamo l'impegno di tutti Beh Daz è stato davvero grande aiuto Come Daz Ma cagata Non è un'impegno di Daz Non dovete ne premuto alle 1 Come andavi e basta Vai attacca Vai attacca Vai attacca Facilissimo Era una cagata Allora Ho tre punti a abilità Da poter utilizzare E quello devo ricordarmeli Che devo effettivamente usarli Allora Una dichiarazione Una richiesta di equipaggiamento Per la terrazzatura specializzata Grande Dovrò vedere come cazzo si fa Da ovviamente aumentato tutti Anche Kate Certo Strano questa cosa La modalità alternativa Ah la granata bagliante Vero Un'ottima cosa Qual era Era il primo A uno dei tre corpi Un po' più esterni però Cioè interni ma un po' più esterni Questo è proprio esterno Diciamo Interno 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 Esterno E' l'usso di scegliere Se poter entrare in quella germana Però io non sono tra i primi dieci Perché tecnicamente non lo sono Almeno nella storia Ci segna che noi non siamo Uno dei dieci Nella storia dell'anime O l'avete cambiata giusto per me Poi 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 Leone Hart, 3. Veldort Hoover, 2. Rainer Brown, 3. Mikasa Kerman, 3. Mikasa! Devo farmi un paio di domande. Io devo effettivamente scegliere? Penso che sia ovvio cosa debba scegliere io. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!